Quanchina, ma appena hai messo piedi in campo a titolare, sei diventato sostanzialmente titolare fisso, non sei più uscito. Grazie. Sì, va bene, all'inizio, i primi sei mesi con il Genova non ho giocato tanto, anche ho avuto un infortunio al ginocchio che mi ha lasciato fuori quasi un mese e mezzo. Dopo lì a Genova c'era un centrocampo molto competitivo, c'era Kevin Strootman, Milan Badel, Sturaro, Morten Frendrup, c'era una squadra molto competitiva che penso che il mister in quel momento sceglieva per quelli giocatori. Io sempre lavoravo per aspettare il mio momento. Niente, l'ultimo giorno del mercato è arrivata questa possibilità di venire qua alla Cremonese con il mister Vallardini che lo conosceva da Genova dall'anno scorso. Questo è niente, non l'ho pensato due volte, anche perché voleva arrivare a cumprire l'obiettivo della salvezza, ma anche con la voglia di trovare i minuti. Penso che personalmente l'obiettivo l'ho complito a cavalità, perché ho giocato tanto queste ultime partite, quindi sono molto contento. Sì, Pablo, io volevo chiederti un pochino che tipo di centrocampista pensi di essere, perché ti abbiamo visto soprattutto sulla tre quarti, però comunque hai una qualità che ti permette di giocare un po' dappertutto, ma magari c'è una posizione nella quale preferisci giocare tu? Sì, allora io da piccolo gioco di mediano, ho squadre che fanno più il possesso di palla, qua il mister mi ha messo in una posizione che anche per me è un po' comoda, perché ho più libertà, mi fa anche tornare a fare il lavoro di centrocampo anche quando gioco nel tre quarti, ci sta, perché ho tanta capacità per fare la corsa, e tutte le cose che posso fare per aiutare le squadre le farò sempre, quindi in ogni posizione che devo giocare provo a farlo di buona maniera. Ecco, quando sei arrivato insomma hai parlato anche delle tue esperienze precedenti e quindi anche di come insomma alcuni allenatori, in particolar modo a Inse ti abbiano preparato a venire a giocare in Europa, per cui ti chiedevo dopo due anni comunque quasi di Italia che giudizio dai del campionato italiano, che differenze ci sono con quelli che hai affrontato prima e se ti senti ora pronto effettivamente per poterci stare in questo campionato. Sì, io penso che ho dimostrato che posso giocare in Serie A, dopo magari sono i gusti di allenatori, di calciatori e tutto, ma anche dei tifosi, ma penso che ho fatto vedere che la Serie A la posso fare. Inse mi ha aiutato tanto nella mia etapa in Argentina, penso che la differenza qua con il calcio italiano, tipo le intensità, anche un calcio molto tattico, anche quando giochi contro le grandi squadre sono giocatori di tantissima qualità, quindi penso che sono quelle le differenze che quando vai a giocare contro le squadre grandi sono giocatori di primerissimo livello, quindi penso che quelle sono le differenze più grandi. Ciao Pablo, cosa ti ha detto Ballardini per venire a Cremona qua con lui? Come ti trovi e come ti trovi con la squadra? Bene, bene, io sono un ragazzo molto sociabile, se dice in italiano, sociabile? Socievole? Socievole. Sempre metto a disposizione le mie qualità di calcio, anche come persona, per essere un uomo spogliatorio. Se devo giocare, se non devo giocare, io provo a essere sempre positivo, perché penso che quando la squadra sta bene è più facile arrivare all'oggettivo. Forse questi sei mesi non siamo arrivati alla salvezza, ma penso che dopo i sei mesi che hanno avuto i ragazzi abbiamo fatto molto bene, abbiamo avuto tanti punti, forse abbiamo sbagliato due o tre partite di pareggi quando stavamo vincendo, che non hanno lasciato senza possibilità di combattere fino alla fine, ma io mi sono trovato molto bene. C'è un gruppo molto sano che lavora tanto, molto uniti anche, quindi io sono molto contento qua. L'impatto con questa struttura, che è una bella struttura per allenarsi, e l'impatto con Cremona, che è una città diversa da Genova? Sì, sì, è una città più tranquilla, a differenza di Genova, che ovviamente è più grande, però si sente l'affetto, si dice, l'affetto della gente con i calciatori, penso che sono molto vicini ai calciatori, vai in strada, è sempre una bella parola, un andiamo, un dai, dai che possiamo arrivare, penso che sono tifosi molto fidele, no? Fidele si dice? Sì, sì, molto fidele, quindi per noi calciatori avere quella fiducia di tifosi a calciatori è meglio, perché sai che quando combatti in campo, quando fai tanta corsa, quando fai tutto per la maglia che sta della Cremonese, e loro sono dietro di te, quindi quello è bello. Io invece ti volevo chiedere le emozioni del primo gol in Serie A, hai fatto anche un bel gol, è stato un gesto distinto, sapevi già dove metterla o quando hai visto la palla di Valeri? No, allora io quando ho visto, prima che tutto sono molto contento di fare il primo gol in Serie A, che lo stava cercando da tanto e non lo trovava, però niente, quando Val è entrato in aria, io stava pensando in fare il controllo e calciare, e quando lui me l'ha lasciato tipo un po' più vicino alla porta, piano, ho detto calcio forte, e per fortuna l'ha toccato un po' il difensore e è entrato, però sono molto contento. Sì Pablo, tu sei in prestito dal Genoa, però volevo chiederti insomma, qualora ci fosse la possibilità, se ti piacerebbe restare a Cremona per cercare magari di conquistare la Serie A? Sì, sì, io sono molto contento qua, anche con la mia famiglia, siamo comodi, io ti dico la verità, non so cosa succederà con me, io ho ancora un anno di contratto con il Genoa, quindi non lo so se anche la società vuole contare con me per il prossimo anno, io sto aspettando di giocare l'ultima partita, vedere se devo andare in nazionale a giocare amichevole con Cile, e penso che nel mese di giugno si saprà cosa succede con il mio futuro, ma io qua a Cremona sono molto contento, l'unica cosa che so è che per contratto devo tornare al Genoa per ora. Ecco, a proposito di futuro, sabato l'ultimo impegno contro la Selenitana in casa, quindi è anche un modo per salutare insomma non solo la Serie A, ma anche Cremona, che obiettivi avete per questa gara? Sì, allora io sono una persona molto competitiva, io voglio vincere anche quando giochiamo qua partite d'allenamento, se non vinco la partite la sono arrabbiato tutto il giorno, quindi per me, sempre che gioco al calcio voglio vincere, quindi niente, speriamo di fare una bella partita, una bella prestazione, di giocare da squadra, e poter dare una soddisfazione a tutta la gente di Cremona di vincere l'ultima partita di questa stagione in Serie A, no? Ecco, il sito online AS Cile, non so se l'hai visto, ti ha fatto un'apertura con una pagina col tuo gol, dicendo che vi hai segnato un grandissimo gol, un bellissimo gol. Hai ricevuto complimenti da amici, da gente che è là? Sì, sì, sì. Penso che è normale, no? Quando fai le cose bene ti scrivono tutti. Io preferisco che la gente che mi ha scritto la settimana scorsa, quando abbiamo retrocesso, no? Perché quando le cose vanno bene tutta la gente ti scrive. Infatti sì, ho ricevuto tanti messaggi, penso che è normale, no? Però niente, io rimango con la gente che è quando sta in un momento difficile. Ecco, parliamo del calcio cileno. In un momento un po' così, non brillantissimo. Ecco, il Cile è una nazione importante a livello calcifico da sempre. Cosa occorre adesso per dare una spinta in più a questa squadra? Al nazionale, dici? Sì, sì, sì. Allora, noi stiamo avendo tipo un cambio di generazione che è stato difficile perché abbiamo avuto tanti giocatori di qualità, Alexis, Gary Medel, Arturo Vidal, Claudio Bravo, Charles Aranghis, che hanno lasciato, non lo so come si dice in italiano, la vara alta, sì, al massimo livello. E per noi è stato, si può dire, un po' difficile per i giovani perché noi rispettavamo tanto a quegli giocatori, no? Quindi penso che nel mio caso personale tutte le volte che io andavo a nazionale con questi giocatori per me era come che stavo giocando tipo con, penso, al livello dei campioni del mondo, no? Quindi adesso che sono più grande penso che devo prendere quella responsabilità di dire che va bene, anche io sono un giocatore nazionale, penso che lo dobbiamo fare tutti i calciatori giovani o anche di metà età che devono giocare per tornare al Cile al posto che si amerita, no? Che qualificare il mondiale, fare bene in Coppa America e noi stiamo lavorando per quello quindi speriamo di trovare un buon funzionamento che ci può portare al prossimo mondiale. Grazie a tutti.